Quindi parlami un po' di questo carnevale, cosa hai fatto? Bellissimo, è stato un paio di giorni, giusto il weekend, giusto il tempo di farmi fare le cose più folli in testa e tornare indietro. Hai fatto qualche festa? Si, c'è stata una festa privata, molto carina, in maschera, sono stata con un po' di amiche e si sono divertite un sacco. Ho dormito molto poco, come al solito, poi sai sono sempre in giro, viaggi, cose, quindi ci voleva proprio un momento per me, questo è il momento ideale per rilassarmi, un bel massaggio che mi stai facendo. Bellissimo, fantastico. Io invece non ho fatto nulla, almeno per ora non sto festeggiando il carnevale, non è una festa che mi ha mai entusiasmato, devo essere sincera, però mi hanno invitato a una festa questo sabato e stavo pensando di farci un pensiero. Tu ti sei vestita? Come? Perché io ho bisogno di l'idea. Da 700? Ma non hai avuto caldo con quei bononi? Eh sì, diciamo che devi aspettare proprio l'ultimo momento prima di uscire per metterti tutto il vestito, sennò impazzisci. Cioè, più di mezza giornata non riesci, giusto il tempo di fare la serata. E poi basta, poi basta. Vedi tantissime maschere, tantissime persone che girano per Venezia dalla mattina alla sera e non so come facciano. E tutti vestiti, abbigliati, particolari, veramente è pesantissimo, però oggettualmente alcune maschere sono fantastiche. Ho incrociato uno, vestito da Johnny Depp era uguale, io ho fatto subito una story, poi veramente l'ho incrociato di sfuggita e non sono riuscita a fargli una foto, però rendeva tantissimo come maschera. Ci sono alcune che sono veramente fantastiche. Sì, spero che mi devi dire com'è l'acqua. Perfetto, benissimo, anche il massaggio è eccellente. Dare, devi dare qualche inizio su questi costumi, così a me lo vado a prendere. E poi diciamo qualcosa anche insieme, una prossima volta. Mazzino volentieri, ma volentieri. Tra l'altro ho detto che sei entrata, anch'io proprio venerdì ho proprio tassi, sa mai l'interazione addosso, sì. Beh, allora che a te insieme è la prossima volta. Esatto, esatto, abbiamo gli stessi gusti. Sì, 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 questo è vero. Lo sai che già il capello è cambiato? Sì? Sì. Allora adesso mettiamo un altro pochino e poi... Eh beh, ma sono soltanto all'inizio. Eh sì, dai, mi aspetto grandi risultati. Non ti preoccupare.